Questa è la mia ricetta più buona di sempre e sto dicendo una cosa abbastanza grande Comincio con tre patate e le sbuccio Ora prendo la grattugia e grattugio le patate sui fori più larghi Ora strizzo le patate per eliminare il liquido in eccesso Ora aggiungo due uova Prendo mezza cipolla e la taglio finemente e la aggiungo negli altri ingredienti Ora aggiungo 40 grammi di farina io sto usando quella di riso Aggiungo due bei pizzichi di sale e una bella spolverata di aglio in polvere ma potete mettere anche altre spezie oppure erbe aromatiche che vi piacciono E quindi ora mescolo bene il tutto A questo punto io mescolo con la mano così sento anche bene la consistenza dell'impasto A questo punto possiamo creare i nostri pancakes di patate quindi prelevo un po' di composto lo modello con le mani e metto il nostro primo pancake direttamente nel cestello della frigitrice ad aria io nel cestello ho spennellato dell'olio e adesso faccio la stessa cosa con tutto l'impasto E ora cuocio nella friggitrice a 200 gradi per circa 10 minuti A dopo Chissà cosa ne verrà fuori Nel frattempo prepariamo una buonissima maionese speziata Qui ho un contenitore alto e stretto All'interno ho messo 90 grammi di olio di semi di girasole e ora aggiungo 45 grammi di latte di soia Aggiungo anche un pizzico di sale e un cucchiaio di succo di limone Ora prendo un frullatore a immersione e vado a frullare il tutto Prima appoggio il frullatore sulla base e aspetto circa 10 secondi dopodiché comincio a emulsionare piano piano finché non si formerà la mia maionese Andiamo! Avete visto in quanto tempo si fa la maionese fatta in casa? In un attimo Quanto ci abbiamo messo? 10 secondi Diana? Pochissimo, sì! Ora metto la maionese in una ciotolina Ora aggiungo della paprika e del curry E ora mescolo bene Ed ecco qui pronta la nostra maionese Assaggiamo Wow! E anche i nostri pancakes di patate sono pronti ma prima di andare a vederli lasciate un mi piace al video come sempre condividetelo mi raccomando supportateci come solo voi sapete fare Andiamo a vederli? Andiamo! 3, 2, 1 No vabbè Wow! Vabbè questi sono spaziali Senti Senti che crosticina Wow! Ah buiccia! Questi devono essere proprio incredibili Incredibili Buonissimi saranno E' arrivato il momento Wow! Sono anche croccanti Aspetta Wow! No devo capire meglio Aspetta Ecco Con la scusa Le mangi ancora un pezzo Vedete com'è Diana E' sempre così No parole Queste sono Qualcosa di Indescrivibile Divino Troppo buone E non lo dico solo perché le ho fatte io Fatele E non lo dico Okei!